Questa che stacco il tempo, sennò è facile. Batti le mani su questo tempo? No, le mani. Tutti? Batti le mani. 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 Ok. Scusate, siamo convinti tutti di questo battere delle mani? Sì. Lo sappiamo che cos'è? Ok. Adesso ritorniamo quindi all'origine. Ci finiamo solo della campana e di magari due surdu che tengono il battere. Cioè il tempo, sostanzialmente. Boom, 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 boom. No, no. Questo e questo. vediamo. Ok. Vediamo la relazione tra questa e quella. Qua prima iniziamo loro. Qua, su, 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 su. Qua, su, 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 su. Qua, su. Qua, su. Qua, su. Qua, su, su. Entriamo liberamente in questo ritmo, liberamente come volete voi per il momento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti